Il prefetto di Caltanissetta ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per una giornata di esamina della situazione dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel territorio comunale di Gela, in provincia di Caltanissetta, alla luce di una nuova fase di recrudescenza degli episodi criminosi occorsi nei giorni scorsi. All'incontro erano presenti, oltre al questore, al comandante provinciale dei Carabinieri, al comandante provinciale della Guardia di Finanza, anche il procuratore della Repubblica del Tribunale di Gela, al sindaco del Comune di Gela e il referente della locale Camera di Commercio. La riunione è stata convocata dal prefetto allo scopo di ridefinire contenuti della strategia operativa prontata per fronteggiare le criticità di quel territorio sotto il profilo dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica in considerazione di alcune recenti vicende che richiedono l'attuazione di misure mirate che siano espressione di un'azione a carattere sinergico. In primo luogo il prefetto ha disposto un'intensificazione dei servizi di controllo straordinario, già recentemente rafforzati. Gli episodi dell'ultimo periodo dimostrano come da diversi anni il territorio gelese sia ostaggio di danneggiamento a veicoli e abitazioni private e danni ad attività commerciali. In questo caso il prefetto ha sottolineato l'impegno costante delle forze di polizia che nel corso di accurate indagini, anche grazie alle immagini acquisite da sistemi di videosorveglianza installati dai privati, hanno individuato i responsabili. Nella circostanza anche il dottor Calabrese, procuratore facente funzioni presso la procura della Repubblica di Gela, ha ribadito l'impegno costante di tutte le istituzioni per assicurare la giustizia responsabili dagli episodi delittuosi e ha evidenziato l'importanza che riveste un'azione condivisa contro l'illegalità, sottolineando nel contempo l'assoluta necessità che sia portata a completamento il sistema di videosorveglianza come strumento essenziale ai fini della repressione delle attività delittuose. A tal proposito il sindaco di Gela ha assicurato che sono stati messi in campo tutti gli sforzi per colmare questa lacuna e ha riferito che entro aprile sarà completata l'installazione delle videocamere.